Ciao ragazzi, benvenuti in quello che possiamo considerare l'ultimo video in anteprima su iPhone 8. Perché? Perché oggi alle 19 inizierà l'evento Apple presso lo Steve Jobs Theater al nuovo Apple Park dove Apple svelerà appunto le sue novità in ambito smartphone, in altre parole iPhone 8. Però prima di arrivare all'evento voglio raccogliere in questo video tutti gli ultimi rumor e ragazzi qualche giorno fa c'è stato un leak clamoroso, ve ne abbiamo già parlato su iPhoneItalia.com avrete sicuramente letto anche da altre parti, visto altri video, ma io volevo parlarvene qui oggi subito prima dell'evento. Perché? Perché ormai sappiamo praticamente tutto su ciò che vedremo tra poche ore. E allora se non volete spoilerarvi l'evento Apple chiudete il video in questo momento perché dopo la sigla vi racconterò tutto su iPhone 8, su iPhone 8 Plus e su iPhone... Allora ragazzi partiamo con questo grossissimo leak che c'è stato qualche giorno fa. Un tranquillo sabato, una mattina di un tranquillissimo sabato di settembre, io mi sveglio, accendo il mio iPad, scorro la timeline di Twitter e apprendo che è successo qualcosa di proporzioni bibliche. In sostanza forse è il più grosso leak nella storia di Apple, secondo probabilmente solo a quello dell'iPhone 4, perso in un bar nel 2010, Steve Jobs andò su tutte le furie, il sito che poi mise le mani su quel telefono non fu più invitato agli eventi Apple e forse ancora oggi non viene più invitato, ma questo nuovo leak riguardante iPhone 8 parte da iOS 11 Golden Master che in questo momento non è ancora disponibile. Ora vi spiego. In sostanza non si sa chi, però qualche ipotesi c'è, c'è chi dice che sia un dipendente Apple un po' scontento, ma questo non ci interessa. Sabato scorso, nelle prime ore del mattino, trapela iOS 11 GM. In rete ragazzi c'erano i link per il download. Io l'ho scaricata come tantissime altre persone, tra cui il sito internet 9to5Mac, uno dei siti top in America per quanto riguarda le notizie sul mondo Apple. La cosa interessante è che oltre i download per i dispositivi in commercio c'era anche iOS 11 GM per iPhone 8, perché alla fine iPhone 8 arriverà con iOS 11 e iOS 11 GM con ogni probabilità è la versione che troveremo sull'iPhone 8. Perché? Perché sono già nelle confezioni pronti ad essere spediti ai clienti che li preordineranno. Detto questo, iOS 11 GM ha svelato tantissimi dettagli, non solo su alcune funzioni di iOS 11 che non abbiamo ancora visto e che verranno appunto annunciate durante l'evento di oggi, ma anche novità importanti su iPhone 8. In particolare è stata confermata la forma, il design. Avevamo già visto questa icona nel firmware dell'HomePod, anche in iOS 11 GM ritorna, quindi ragazzi il design di iPhone 8 è quello che abbiamo visto più e più volte. Quella rientranza nella parte superiore della cornice ci sarà, Apple la sfrutterà in un modo che vi farò vedere dopo, ma il design è quello. Mettetevelo in testa, non si scappa. In iOS 11 GM è stata poi trovata traccia anche della funzionalità Portrait Lightning, che dovrebbe essere un'evoluzione della modalità Portrait che abbiamo su iPhone 7 Plus e che sarà esclusiva di iPhone 8. iPhone 8 che quindi avrà questo modulo con doppia fotocamera verticale, con il flash all'interno delle due fotocamere. Da tempo ci stavamo chiedendo cosa potesse consentire di fare e una cosa è questa. Una sorta di Portrait Mode con effetti, sembra da alcuni rumor che sarà così, ma c'è anche chi specula e dice magari no, sarà una sorta di Portrait Mode attiva anche nei video. Vedremo. Lato video ci sono delle novità, perché questo nuovo iPhone 8 riuscirà a registrare fino alla risoluzione 4K a 60 frame al secondo, che è veramente tantissimo per uno smartphone, oltre allo slow motion in 1080p a 240 frame al secondo. Veramente un'ottima dotazione per quanto riguarda la fotocamera che dal punto di vista della risoluzione non ci sono novità, dovrebbe essere da 12 megapixel. Una novità poi confermata è il display OLED. Lo sapevamo, non c'è molto da dire. iPhone 8 avrà un display OLED, punto e basta. Ma la cosa nuova è che iPhone 8 potrebbe avere anche la tecnologia presente sugli iPad Pro, ossia il True Tone Display, un qualcosa che non si nota tantissimo durante l'uso, ma quando non guardate un pannello True Tone sentite che manca qualcosa, sentite che è un po' più fastidioso da guardare. Quindi il True Tone in sostanza regola la tonalità del pannello in base alla situazione di luce esterna, quindi se siete in una camera piuttosto illuminata, con luci chiare come sono io in questo momento, il pannello virerà sull'azzurro. Se invece siete in una camera con luci gialline, il pannello virerà sul giallino. Però è un cambiamento estremamente sottile, che non è facilissimo da vedere, ma appunto quando non avete un pannello True Tone, quando vi abituate a un pannello True Tone, questa differenza invece è da notare. Dovrebbe anche aumentare la risoluzione del pannello, che sembrerebbe fissata a 1125 pixel per 2436 pixel. E poi grossissima conferma, Face ID. Si chiamerà così il nuovo riconoscimento biometrico di iPhone 8, il riconoscimento del volto quindi sarà presente sul prossimo smartphone Apple e ci consentirà di sbloccare il telefono in qualsiasi angolazione. Quindi questa è una novità che per il momento non ha fatto vedere nessuno, che migliora sia la sicurezza sia appunto la versatilità di questo tipo di sblocco. In pratica iPhone 8 potrà sbloccarsi anche guardandoci dal basso ad esempio, oppure dall'alto, un qualcosa appunto di molto molto comodo, anche in ottica Apple Pay, ma sono state anche mostrate le schermate di configurazione del Face ID con tanto di una gif animata che ci mostra più o meno come dovremo fare per farci riconoscere al meglio da iPhone 8. Si potrà pagare con Apple Pay, si potranno scaricare app, autorizzare i pagamenti con il Face ID, che diventerà in sostanza l'evoluzione del Touch ID. Touch ID che invece non dovrebbe esserci, sembra ormai confermato anche questo, da iOS 11 GM. Una differenza però ci sarà per il tasto Power ed ecco perché l'hanno fatto più grosso. In sostanza non avrà il sensore d'impronte sopra, ma avrà molte più funzioni e rediterà alcune funzioni del tasto Home. In particolare, un po' come su Apple Watch, premendolo due volte richiameremo la schermata di Apple Pay per autorizzare i pagamenti tramite le nostre carte. Oppure, tenendolo premuto, potremo invocare Siri. Appunto, stessa cosa che facevamo col tasto Home, adesso la facciamo col tasto Power. E infine al tasto Power è stata anche assegnata l'attivazione del menu di accessibilità, un qualcosa che anche in questo caso, in precedenza, era di competenza del tasto Home. E quindi questo tasto Home, che fine farà? Come si controllerà iPhone 8? Si controllerà con le gesture. Ragazzi, ve ne avevo già parlato nell'ultimo video. Quelle immagini che avete visto, quei rendering che avete visto nell'ultimo video, hanno trovato una conferma al 100% in queste immagini che vi faccio guardare ora. Sì, ragazzi, queste sono immagini trovate in iOS 11 GM, nel firmware che alimenterà iPhone 8. Quindi ormai possiamo darlo per scontato. Su iPhone 8 avremo quella riga in basso che ci consentirà di eseguire le gesture per richiamare il multitasking, per chiudere le app, per fare tutto quello che facevamo prima con il tasto Home. Anche se appunto dovremo capire un po' meglio come funzioneranno queste gesture, ma per questo dobbiamo aspettare ovviamente la presentazione di Apple. Svelate da iOS 11 GM anche le Animoji, che saranno forse esclusiva di iPhone 8 e sono una figata pazzesca, perché in sostanza voi selezionerete un emoji, nel nostro esempio abbiamo utilizzato quella della cacca, e semplicemente tramite il Face ID il telefono riuscirà a far assumere all'emoji, in questo caso alla cacca, la vostra espressione. Quindi se ridete, una cacca riderà. Se invece sarete tristi, sarà triste. Più o meno funzionerà così. Però è una figata, perché anche soltanto girando la faccia, la Animoji girerà anche lei e assumerà la vostra espressione. È un qualcosa di fighissimo. Secondo me non vedo l'ora di provarlo appunto su iPhone 8. Infine, chiudendo su questo leak clamoroso, sempre iOS 11 GM ci svela anche probabilmente l'arrivo delle AirPods 2. O forse non saranno AirPods 2, ma sarà comunque una nuova generazione di AirPods, dal modello, insomma, sembra che sarà un aggiornamento di quelle già esistenti, quindi non aspettatevi stravolgimenti in ambito di batteria, di qualità audio, forse neanche di controlli, ma l'unica differenza sembra appunto che il LED di notifica, o meglio, il LED di ricarica della batteria delle AirPods non sarà più all'interno del case ma fuori. Basta, finito qui. Invece delle altre notizie che sono trapelate questa settimana, ci hanno descritto più o meno nei particolari quello che sarà Apple Watch Serie 3. Si è partiti ancora una volta da iOS 11 GM con questo screenshot che ci mostra la possibilità di disattivare la connessione dati su Apple Watch e quindi fatevi due conti. Oggi la connessione dati su Apple Watch non c'è. Apple Watch Serie 3, che novità avrà? Ne avevamo già parlato. Probabilmente ci sarà la rete dati, quindi ci sarà la possibilità di utilizzare una SIM, anzi no, perché alla fine ci sarà una SIM virtuale che forse si collegherà a quella dell'iPhone, stesso numero, insomma, è un po' da capire perché qui c'è ancora molta confusione, non si sa, soprattutto alla fine, cosa avrà deciso di fare Apple, ma di sicuro eviteranno di raddoppiarci il piano tariffario e quindi di farci acquistare due SIM, una per l'orologio e una per l'iPhone. La cosa interessante è che comunque se tutto funzionerà come dovrebbe, anche in Italia, potrete uscire di casa soltanto con il Watch e rinunciare quindi a portarvi l'iPhone dietro. Questo ragazzi era riassunto solo di sabato, poi sono successe delle altre cose in questi giorni, è stata confermata la ricarica wireless, sempre da iOS 11 GM che dovrebbe arrivare su tutti gli iPhone in uscita quest'anno e poi si è capito finalmente come funzioneranno le orecchie di iPhone 8, in particolare come funzionerà la nuova status bar, perché la status bar rispetto a prima ora è interrotta, sappiamo che sulla sinistra ci sarà l'orologio e sulla destra piccole icone per tutto il resto. Quelle piccole icone però a volte potrebbero risultare troppo piccole, ad esempio andando a caricare il telefono non riusciremo facilmente a capire quando appunto entrerà in ricarica, se c'è un problema col cavo e magari colleghiamo e non sta caricando e allora Apple cosa ha deciso di fare? Di rendere quella barra dinamica. Quando ad esempio collegheremo, come stiamo dicendo in questo esempio, l'iPhone alla ricarica, le tre icone faranno posto ad un'unica icona della batteria per qualche secondo per farci capire che il telefono è entrato in ricarica e poi torneranno le tre icone. Quindi una status bar dinamica che sicuramente aggiunge un po' di dinamicità alla fine ad iPhone che magari gli mancava. Si è poi anche vista una simulazione di una doppia status bar perché quando ad esempio siete in chiamata e chiudete l'app telefono sapete resta la parte verde in alto che vi dice premi qui per tornare alla chiamata. Anche questo è stato ridisegnato in iOS 11 su iPhone 8 e infatti al posto dell'orologio comparirà l'icona della chiamata in corso rossa o verde a seconda insomma delle app e quindi premendo lì potrete riaprire l'app che state utilizzando. Quando ovviamente chiuderete la chiamata o quello che state facendo tornerà l'orologio. Quindi una status bar dinamica che secondo me è molto molto interessante. E infine ragazzi la notizia più importante forse di questi ultimi giorni in realtà no perché si parla del nome dei nuovi iPhone in uscita ma tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi dal punto di vista del nome forse è sbagliato perché secondo un nuovo leak anche in questo caso proveniente dalla GM di iOS 11 i veri nomi saranno degli altri. Vi avevo anticipato qualcosa all'inizio prima della sigla iPhone 8 ci sarà ma non sarà iPhone 8 e iPhone 7S non ci sarà. Mi spiego. In sostanza i telefoni ragazzi saranno sempre quelli. Il punto è che quello che chiamavamo iPhone 7S e quello che chiamavamo iPhone 7S Plus in realtà saranno iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Ci siamo? Quindi in sostanza da iPhone 7 si passerà ad iPhone 8 mantenendo più o meno lo stesso design cambiando il materiale dall'alluminio al vetro ricarica wireless vedremo che altro però il telefono resterà quello quindi da iPhone 7 ad iPhone 8 rispettivamente normale e Plus. Per quanto riguarda l'iPhone 8 quello che chiamavamo iPhone 8 in realtà il nome confermato definitivo dovrebbe essere proprio quello che era stato suggerito all'inizio ossia iPhone X dovrebbe chiamarsi così ragazzi iPhone 8 si chiamerà iPhone X iPhone 7S e 7S Plus saranno invece iPhone 8 e iPhone 8 Plus un cambio di nome che ci fa capire è che effettivamente Apple sta valutando iPhone X quest'anno come un iPhone speciale e sta proseguendo quello che si diceva avrebbe dovuto fare cioè far fuori la serie S e andare avanti con iPhone 7 iPhone 8 iPhone 9 quindi l'anno prossimo aspettiamoci un iPhone 9 che magari avrà il concetto estetico di iPhone X di quest'anno che è appunto in sostanza un'anticipazione di quello che Apple farà in futuro l'iPhone del decennale si chiamerà iPhone X vi piace? non vi piace? c'è chi dice ma non chiamiamolo X chiamiamolo iPhone X perché alla fine 10 uguale 10 come OS X OS X OS X però iPhone X che senso avrebbe? puoi saltare il 9 ma ragazzi tutte queste domande risponderà Apple dalle 19 e noi dalle 18.30 infatti lo streaming Apple inizierà alle 19 noi partiamo mezz'ora prima con le prime informazioni ancora prima appunto dell'inizio dell'evento su questo canale per la prima volta qui potrete seguire sia lo streaming di Apple senza andare sul loro sito sia il nostro commento in italiano con informazioni aggiuntive che reperiremo al di fuori insomma di ciò che diffonderà pubblicamente Apple il nostro commento in italiano accompagnerà la presentazione dei nuovi iPhone e chissà anche magari di qualche altra novità come Apple Watch Serie 3 Airpods 2 Apple TV di quarta generazione anzi no di quinta generazione che si dice potrebbe arrivare insomma vi aspetto qui tutti quanti alle 18.30 il video diciamo del live è già online quindi lo trovate nel canale inizierà alle 18.30 non scrivete commenti quando inizia alle 18.30 partiremo quindi seguiteci perché oggi sarà una giornata storica ne sono convinto per il mondo Apple e non solo ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com ci vediamo alle 18.30 Grazie a tutti Grazie a tutti.